Fai un'altra domanda e poi ti lascio subito in faccia. Allora, senti, perché secondo te è interessante, se è interessante o è utile fare l'open day? Beh, è utilissimo di sicuro fare l'open day perché serve con quelli dei ragazzi delle medie per capire quale scuola potrebbe interessarli di più. Noi per esempio qua si parla di Milano Gastro, però ci sono tanti altri argomenti e tutti questi servono per far capire appunto ai ragazzi quale scuola potrebbe interessarli di più. Noi quindi cerchiamo di fare le cose che più vengono i ragazzi delle medie e quindi secondo me è senz'altro fondamentale. Hai avuto la possibilità di approfondire alcuni argomenti di più o appassionarli di più? Con l'open day? Assolutamente, per farlo abbiamo fatto quest'anno ma diciamo che non lo sapevo perfettamente, avevo preso 5 invece adesso ho studiato molto di più e quindi lo sapevo, quindi è stato anche utile per me. Perfetto.